dare la possibilità a persone che sentiamo vicine di percorrere con noi un po' di strada in quello che è l'approccio alla cultura, l'approccio all'arte e visto e considerato che il family office che presiedo si occupa di economia e finanza, che cosa abbiamo cercato e cerchiamo di fare? Di unire gli aspetti dell'arte a quella che è la realtà di tutti i giorni, quindi al mondo dell'economia e della finanza. Parlando quindi di economia, da un po' di anni non si può prescindere dal non parlare della Cina. La Cina, pensate, nel 2000 valeva come prodotto interno lordo qualcosa come 1.800 miliardi di dollari, oggi ha superato gli 11.000 miliardi di dollari, tanto per darvi un'indicazione, un'idea, nel 2000 l'Italia valeva 1.200 miliardi, oggi vale 1.900 miliardi di dollari, quindi la strada che ha percorso la Cina è di straordinaria velocità, tutti noi ce lo diciamo tutti i giorni e devo dire che il gap tra la Cina e gli Stati Uniti, che sono l'economia più importante al mondo, si sta obiettivamente riducendo. Pensate che gli Stati Uniti valgono qualcosa come 18.000 miliardi e il prossimo anno la Cina supererà i 12 miliardi. Quindi siccome nella storia l'arte segue il denaro, non si può, quando si parla di arte, non seguire la Cina e non guardare qual è l'atteggiamento della Cina verso il mondo dell'arte. Noi nell'ambito di quello che è il programma di prospettive abbiamo da qualche settimana la mostra di Liu Bolin, che è un fotografo che assieme a Ai Weiwei rappresenta la Cina oramai da tempo a livello internazionale. Quindi abbiamo chiesto a degli amici assolutamente molto qualificati di condividere con noi questo momento e abbiamo coinvolto come moderatore Guido Talarico. E tra l'altro questa sera Guido Talarico, che oltre ad essere un esperto d'arte, una persona di grande competenza in questo mondo, riconosciuta da anni, ha scritto un libro che questa sera con il contenuto della serata apparentemente c'entra molto poco, ma che noi vi abbiamo voluto regalare perché è un libro che a mio avviso è una lettura semplice, non banale, assomiglia a un bignami dell'arte, ma è certamente un qualcosa di più e che dà la possibilità di visitare il mondo dell'arte moderna e contemporanea uscendo dalla lettura con un po' di chiarezza in più. Quindi, anche se non c'entra con il contenuto della serata, è un regalo che vi abbiamo voluto trasferire per il Natale che si avvicina, che normalmente ci dà anche lo spazio per qualche lettura in più. Quindi lascio la parola a Guido e spero che sia del tempo ben speso e piacevole per tutti noi. Prego. Grazie Dario, buonasera a tutti, anch'io do il benvenuto e vi ringrazio per essere venuti. Mi metto qui così poi lasceremo bene la parola a questo parterre che è veramente qualificato. Prima lasciatemi dire anch'io due parole di introduzione al perché della serata. Perché Tosetti Veliu da anni sta facendo un percorso che utilizza l'arte e l'arte contemporanea come veicolo per porre l'accento su alcuni temi. Questa sera già Dario ha detto che parliamo del rapporto tra il Made in Italy, l'Italia e la Cina e lo facciamo appunto attraverso un grande artista che ha, come avrete visto, una sua peculiarità. E questo si inserisce in un percorso molto lungo che fa in qualche modo di Tosetti Veliu una struttura che è, come dire, ha da tempo trovato l'utilità e la validità di utilizzare l'arte come veicolo appunto per accendere una luce, un diaframma su argomenti importanti. Il volume che avete trovato con voi sulle vostre sedie è prospettive ed è un modo in cui hanno raccolto anche quello che è stato fatto nel passato. Quindi c'è l'ultimo maestro che abbiamo qui visto questa sera nella mostra allestita, ma ci sono anche i precedenti. E perché le prospettive? Ecco, prospettiva è una parola importante perché nella storia dell'arte la prospettiva è quello che ha fatto la differenza. Si è passato dall'arte classica al moderno e al contemporaneo proprio con gesti che hanno sovvertito la prospettiva. Duchamp non ha fatto altro che cambiare un oggetto, un orinatoio da questa posizione a questo, trasformandolo in un oggetto banale a una fontana. Il cambiamento delle prospettive è una costante che si ripete e che ancora più di questi tempi e con questa chiave assume un significato particolare. Io, come dire, ho sempre ammirato anche la passione con cui Giulia ha seguito questa strada e ha tracciato questo lavoro perché è un modo diverso di approntare i progetti e di andarli in profondità. Adesso, quindi grazie, ci tenevo a raccontare questo passaggio perché è un passaggio fondamentale anche per capire poi dai protagonisti che abbiamo qui con noi questa sera come le loro esperienze personali abbiano in fondo a che vedere con le prospettive. Sono persone e storie molto ricche, molto diverse, che rappresentano veramente il meglio di quello che questo nostro paese ha saputo costruire, il famoso Made in Italy. E ciascuna storia meriterebbe un racconto, ma questa sera cercherò di vincolarli al tema, cioè al rapporto tra Italia e Cina e al Made in Italy, appunto con questa prospettiva. E comincerei seguendo l'ordine che vedete alle spalle degli oratori con la testimonianza di Gaia. Gaia, non ho bisogno di fare presentazioni singoli perché sono certo che ciascuno di voi li conosce, però vorrei proprio, cominciando a te Gaia, raccontare il vostro rapporto perché non è un rapporto probabilmente scontato, cioè un grande vino in un mercato come quello cinese che ha nella sua cucina, nella sua tradizione, scarsa dimestichezza con questa cosa meravigliosa. Come avete cominciato, come avete approcciato questo mercato? Buonasera a tutti, ho un nome che è un marchio, Gaia Gaia, era mio destino dover lavorare con i miei genitori a Barbaresco nella cantina di famiglia. Io mi occupo del mercato cinese da 12 anni, il primo viaggio l'ho fatto ad ottobre del 2004, è un mercato che non è ancora uno dei più importanti per noi, a differenza di tante cantine francesi. Ci sono cantine di Bordeaux che vendono il 70% della loro produzione in Asia, con Cina, mercato importante dell'Asia. Invece per la mia cantina l'Asia conta un 25% ed è più importante il Giappone che non la Cina e Hong Kong. Non è un mercato grande per l'Italia perché è un mercato molto basato sul consumo di Bordeaux. Mi ricordo appunto 12 anni fa quando ho visitato la Cina per la prima volta, mi ha colpito il fatto che non fossero conosciuti vini italiani ma soltanto i vini di Bordeaux. Due aneddoti molto interessanti. Il primo è appunto il primo viaggio, quello del 2004. Mi ricordo che alla fine di un viaggio avevo un po' di tempo libero sono andata a fare una manicure e la ragazza cinese che mi faceva la manicure parlava un pochettino inglese, pochissimo, però abbiamo potuto iniziare a parlare e mi ha chiesto di dove ero, ho detto sono italiana. Io ho detto italiana, Italia, cos'è l'Italia? L'Italia è una nazione che fa parte dell'Europa. Cos'è l'Europa? L'Europa, l'Italia, la Francia, la Germania, siamo tutti noi. Ma vivete tutti insieme in Europa? Sì, come l'Asia c'è l'Europa. Non aveva mai sentito parlare né d'Italia né di Europa. E poi vado avanti e mi chiede cosa fai in Italia? Faccio vino. Ah, vino. E qui mi ha sorpreso per la prima volta. Mi ha detto io ho già assaggiato il vino rosso, il vino bianco, il vino spumante, amo il vino spumante. Ed è stata una sorpresa perché pensavo che bevesse magari tè, succhi, ma non avesse mai assaggiato il vino. E poi va avanti e mi dice ma com'è il tuo vino? E' come la Fit 82? Ed era un marchio unico. La Fit 82? E gli mi sono crollate le braccia e ho detto ma come fai a conoscere la Fit 82? E lo conosce benissimo perché guarda le sopopera di Hong Kong e le persone ricche bevono la Fit 82. Altro episodio, ero non mi ricordo sia a Shanghai o a Pechino, vado a visitare un negozio che vendeva un negozietto che vendeva pezzi d'antiquariato e mi giravo intorno, non c'era nulla di particolare che mi colpisse e poi ho visto che al fondo del negozio c'era una parete completamente coperta di bottiglie di vino. Allora il signore ha visto che ero interessata a quella parete e mi fa vieni, vieni, la Fit, la Fit. Allora vado a vedere questa parete, c'erano un sacco di bottiglie però non c'era la Fit. Allora domando ma dov'è la Fit? La Fit, per lui il vino è la Fit e non esiste altro vino. E questo perché i francesi sono arrivati prima di noi, hanno lavorato molto bene, noi siamo arrivati, non siamo pionieri nel mercato cinese però siamo tra i primi, 12-15 anni fa sono arrivate le aziende italiane sul mercato cinese, mentre le aziende di Bordeaux sono già da 30-40 anni sul mercato, ci sono delle aziende, Rémy Martin, azienda produttrice di cognac, che ha aperto una cantina in Cina Dynasty e ce ne sono altre. Adesso il gruppo LVMH appena da qualche giorno ha presentato un nuovo vino che producono in Cina, prezzo di uscita delle bottiglie 250 euro a bottiglia. Quindi i francesi sono arrivati prima di noi, si sono mossi meglio, si sono fatti riconoscere e poi sono stati anche molto sostenuti dagli inglesi, perché sono gli inglesi che hanno portato la cultura del vino di Bordeaux in giro per il mondo e l'hanno fatto conoscere i vini di Bordeaux in tutto il loro impero britannico e Hong Kong era parte, era una colonia fino a poco tempo fa ed è da lì che è partita la cultura del vino per la Cina. L'hanno fatto come singole aziende o è il sistema Francia che ha portato e ha fatto sì che questo loro prodotto fosse così, ha fermato il vincente? Il sistema Francia e anche Inghilterra, perché comunque sono, beh il sistema Francia, perché a Bordeaux ci sono i più importanti negociants che vendono in tutto il mondo, però ci sono anche negociants importanti in Inghilterra che hanno sempre puntato sui vini di Bordeaux, il ducato Bordeaux era un ducato inglese fino al XII secolo, dal XII al XIV secolo, quindi sono legati storicamente da molto tempo e quindi ci sono negociants inglesi, ci sono giornalisti poi inglesi, ci sono le scuole più importanti di vino, il WST, Wine and Spirit Educational Trust che è la scuola più rinomata internazionale e inglese, quindi hanno portato la cultura e la distribuzione. E poi la Cina non è un mercato dove c'è stato un flusso migratorio di italiani, perché invece noi siamo molto forti su tutti i mercati dove sono arrivati gli italiani, negli Stati Uniti siamo, l'Italia è prima sia in volume che in valore, la Germania, l'Ontario e via dicendo. Questo vuol dire che alla fine l'Italia va dove vanno gli italiani, quindi non è l'istituzione che si muove prima, ma è il mercato in qualche modo, o i nostri connazionali o le singole aziende, questo è un problema che state affrontando in qualche modo adesso o ancora ogni azienda si muove autonomamente? Noi ci muoviamo autonomamente, ci sono tante cantine che grazie anche ai contributi europei si stanno muovendo insieme, hanno dato sempre più contributi per la promozione del vino e quindi sono sempre di più quelli che viaggiano e si promuovono insieme. Penso che dovrebbero una cosa interessante perché sono sempre stati ristoratori italiani che hanno fatto da ambasciatori per la cultura italiana, che hanno fatto conoscere il vino, il parmigiano, l'olio, la maniera di mangiare, anche la cultura italiana in giro per il mondo e quindi magari sarebbe interessante aprire delle scuole di cucina italiana in Cina o in India o in Russia, in tutti questi mercati dove non c'è stato un flusso migratorio, anche perché c'è molto interesse per la cucina italiana, tutte le catene internazionali, non abbiamo una catena internazionale italiana importante tra le catene alberghiere, però ogni Ritz-Carton, Hyatt che apre, apre e ha un ristorante italiano al suo interno, quindi questa sarebbe una mossa interessante, importante. Grazie, io adesso passerei a te Marco, Marco Poglione, il Made in Italy è anche, come dire, l'abbiamo detto prima, è una persona nota con una serie di marchi al proprio interno importanti che hanno fatto un po' la storia di questo paese e però Marco, come mi dicevi ieri al telefono, tu hai una conoscenza profonda, mi dicevi che la Cina ogni 30 anni vive una fase storica diversa, le ultime due sono state quelle della produzione e ora del mercato, tu Issa è stato un po' a cavallo di queste due fasi e vorrei che ce le descrivessi come era e come sta cambiando il mercato in questa prospettiva. Sì, la Cina diciamo che ha questa caratteristica che è un po' la nostra non caratteristica, la caratteristica che ci manca di più, quella di saper fare progetti di lungo periodo, nella fattispecie loro sono questi 30 anni, hanno fatto la rivoluzione nel 49 e nel 79 è andato lì Kissinger è aperto, è un po' cambiato il mondo in Cina perché ha aperto, la Cina si è aperta, poi nel 2000... La diplomazia del ping pong? Sì, il famoso 79, quando poi è nato il primo tentativo di mercato, comunque per i primi 30 anni la Cina aveva l'obiettivo di dar da mangiare ai cinesi e quindi la rivoluzione, quindi la ciotola di riso, la terra, i contadini. Dal 79 al 2009 la Cina ha voluto ed è diventata la fabbrica del mondo e ci ha massacrati tutti, non solo l'Italia, proprio tutto il mondo e ne parliamo fra un attimo. Dal 2009 al 2039 hanno dichiarato che vogliono diventare il più grande mercato del mondo, quello che si diceva prima, hanno questo prodotto interno lordo che sta massacrandoci e effettivamente è previsto che nei prossimi dieci anni superino gli Stati Uniti. Quando sono partiti all'inizio degli anni 2000 erano la quinta o la sesta economia, avevano superato da poco l'Italia e c'era il Giappone saldo in seconda posizione, hanno proprio bruciato il Giappone, oggi sono la seconda economia mondiale e stanno viaggiando per diventare la prima, naturalmente la prima lo diventeranno quando combineranno la capacità produttiva alla capacità di consumo, quindi diventeranno anche il più grande mercato del mondo, oltre che la più grande fabbrica del mondo. Quindi ci sono questi 30 anni e noi abbiamo vissuto, siamo stati a cavallo tra la fine dei secondi 30 anni e l'inizio dei terzi 30 anni, perché siamo andati in Cina, diciamo alla fine degli anni 80, quando la Cina incominciava a produrre il nostro malgrado. Io per tanti anni ho fatto interventi dicendo che mi sento tutto sommato un vigliaco perché stiamo facendo i non interessi, i contro interessi dei nostri paesi, dell'Europa. Ho sempre sostenuto che la più grande ricchezza di un paese, di un continente non è la ricchezza ma è la capacità di crearla quella ricchezza e la ricchezza la crei prima con la domanda e poi con l'offerta, cioè prima consumi poi produci, cioè è il consumo che tira la produzione. E noi di fatto abbiamo regalato la nostra capacità, quindi la nostra ricchezza più grande ai mercati emergenti regalandogli col VTO e con l'abbattimento di tutte le barriere la nostra capacità di consumare. E questo è il valso per l'Europa ma anche per gli Stati Uniti e questo sicuramente ha fatto un gravissimo danno alle nostre economie. E invece ora potrebbe aprirsi una fase di opportunità se è quella del mercato. Adesso evidentemente, poi si è fatto tanto parlare di questo made in Italy. In effetti noi abbiamo tre settori per cui essere italiani è veramente un grande piacere come imprenditori, che sono sicuramente la moda, il design e l'arredamento e l'enogastronomia, dove effettivamente avere il marchio Italia, perché almeno per quanto riguarda il nostro settore il made in Italy è difficile da difendere, perché su certi posizionamenti nel mondo della moda è impossibile poter competere a livello mondiale producendo in Italia. è impossibile per ragioni economiche e a questo punto, dopo tanti anni di impossibilità e di concorrenza semisleale da parte di questi mercati emergenti, oggi è impossibile anche per ragioni pratiche. Non ci sono più le fabbriche. Se anche si tornasse indietro e si rimettessero le barriere, noi avremmo un grandissimo problema perché oggi fisicamente non ci sono più fabbriche che hanno chiuso praticamente tutte. E quindi abbiamo vissuto noi con un posizionamento di cosiddetto fast fashion, accessible luxury, lo shift, il passaggio tra il made in Italy e il marchio italiano e per fortuna siamo riusciti a continuare a vendere il valore italiano non più con la manifattura italiana ma dando contenuto di italianità al marchio. Quindi adesso c'è molto meno sensibilità, almeno per il nostro settore, per il nostro posizionamento ma un po' per tutto il settore, a dove è fatto il prodotto. Se il prodotto è armani, è italiano per definizione, che poi sia fatto in Bulgaria, in Romania o in Cina, non gliene frega abbastanza più niente a nessuno. E per fortuna perché almeno si è riusciti a tenere il baricentro economico con aziende che non producono più sul paese. La tua esperienza, se quindi questa prima fase ha danneggiato in qualche modo il sistema Italia perché ha portato alla chiusura di tante fabbriche, questa seconda fase invece che è quella del mercato, può aprire nuovi spiragli, può aprire nuove opportunità per l'Italia? È quello che tutti quanti noi ci auspichiamo evidentemente. Nel tuo caso per esempio? Nel nostro caso sicuramente ci ha aiutato moltissimo perché a partire dall'inizio degli anni 2000 abbiamo incominciato anche a vendere in Cina. Perché poi c'è un sistema di business? No, poi lì, noi abbiamo un modello di business un po' particolare ma al di là di quello in quei dieci anni tra il 2000 e il 2010 sono successe delle cose turche, cioè che noi non potevamo neanche immaginare che esistessero, cioè il nostro partner cinese a un certo punto ha detto noi nei prossimi due anni dobbiamo aprire 4.500 negozi. Come fate aprire 4.000? Ho fatto i conti e dico ma quanti al giorno ne devono aprire per aprirne in 600 giorni 4.500? Ma sono già lì che ci aspettano perché avevano 4.500 centri commerciali in costruzione che finivano in due anni e dovevano riempirli e al quarto piano più o meno di tutti i centri commerciali c'era l'abbigliamento casual e sportivo e avevano una sessantina di botteghe che dovevano riempire, quindi li facciamo di sicuro, non è che dobbiamo essere bravi. In quegli anni crescevamo velocissimamente evidentemente con il business in Cina e un giorno a questo nostro partner che poi è diventato come tanti altri uno degli uomini più ricchi di Cina, oggi investe, fa, compra, vende, arte, qualunque cosa Carlo conosce benissimo e dico eravamo in macchina e ero curioso di vedere, scoppiava questo business e con le rimanenze come fai? Perché noi che facciamo questo mestiere avevamo un problema di scorte, di rimanenze, produciamo 100, vendiamo 80 e poi 20 dobbiamo farne qualcosa i quelli del super lusso li distruggono proprio, li inceneriscono e dico e voi cosa fate con le rimanenze? Ma cosa sono le rimanenze? cosa sono le rimanenze? Ed erano dieci anni che faceva quel mestiere e crescevamo un mese, dico le rimanenze, quando produci c'hai il leftover l'ho incominciato con il traduttore, lo stock, le rimanenze non sapeva cos'era le rimanenze, ma noi non avanziamo proprio alla fine ci siamo capiti, ah dici, no no ma noi niente, non abbiamo niente vendiamo tutto, non riusciamo a fare abbastanza, tutto quello che facciamo lo vendiamo, potessimo fare di più, ne faremo di più, porca miseria Marco invece Fabrizio Giugio ha anche una bella storia che mi ha anticipato ieri al telefono perché anche in questo caso non c'è bisogno di presentazioni se non che, devo dire, mi è sorpreso perché su questa controtendenza in qualche modo del mercato cinese mi ha stupito che fossero così quindi vorrei che la raccontassi questa esperienza che per vostra mano avete vissuto su un settore particolare che era quello dell'automobile e magari dimostrandoci anche quelle slides che mi hai sì, io sono stato in Cina la prima volta nel 91 e sono stato invitato da dei nostri amici semplicemente per cominciare a parlare con alcuni produttori cinesi che producevano essenzialmente caro armati avevano un milione e mezzo di pendenti per fare 400 caro armati all'anno e mi disse cosa facciamo, se vuoi cominciare a fare un'automobile possiamo parlarne quindi insomma il primo viaggio che ho fatto con degli amici eravamo da soli a Pechino su questa Volvo nera e poi dopo questa Volvo nera da soli in giro per la Cina insomma in circa 12 anni ho partecipato a tutti questi progetti ce n'è alcuni ma il motivo oggi è molto semplice la Cina ha perso una grande occasione dal mio punto di vista la Cina, questi sono i marchi, alcuni ce ne sono più di 50 di case automobilistiche vuol dire più dell'Europa tanto per cominciare oggi nata appunto dalla fine degli anni 90 noi sappiamo che la Cina era questo notate che attraverso le biciclette si vede un raggio di sole e questa è una foto di tantissimo, almeno di 20 anni fa ovviamente pensate che guardando questo allora ho pensato mamma mia certo che quando riempiamo di auto dove andremo a finire è successo qualcosa, ancora qui si intravedeva il sole oggi siamo qua oggi se voi andate in Cina, Pechino, Shanghai eccetera state il più grande parcheggio del mondo esci dall'aeroporto, sei parcheggiato fino a dove devi arrivare per circa 3-4 ore anche se mancano 20 km allora la Cina come ha potuto liberarsi si è emancipata automobilisticamente la prima cosa è stata assolutamente aggredita dal sistema paese in questo caso tedesco che ha fatto degli accorti e questa macchina che era già vecchia negli anni 90 è prodotta ancora oggi dalla Volkswagen con un certo successo e arriviamo, devo fare un percorso allora all'inizio del secolo scorso la mobilità forse ancora prima mobilità carrozza carrozza ma tanto temo che ci torneremo temo che ci torneremo di questo passo per cui diciamo che carrozza contro carrozza la Cina nel fine dell'ottocento eravamo abbastanza allineati poi vabbè gli americani riescono a produrre in grande serie un veicolo che si muoveva credo a 50 all'ora al formo del T e poi però cominciamo quindi questa e questa erano oggetti in cui salivi bene ovviamente per pochi per pochi qui per qualcuno in più qua per tre o quattro ma il car design l'automobile comincia a uscire dal canone movimento ma entra nel canone bellezza questa è di mio padre forse una delle più belle macchine che ha fatto però gli anni 60 insomma ci sedevamo sempre più per terra si diceva ma reclina un po' lo schienale e facevi così per diventare al poggiatesta e poi cosa è successo? bene le berline un po' più logiche e questa berlina la 131 è quella che ha dato poi là a tantissime questo cliché di vettura è quella che fino a pochissimi anni fa era il riferimento della macchina popolare poi qualcuno di mia conoscenza negli anni 70 rompe le scatole e dice ma perché devo fare questi bidoni lunghi quando se io faccio la macchina verticale sto seduto meglio occupo meno spazio consumo di meno ma soprattutto occupo meno spazio quindi entro meglio questo era un taxi per esempio ancora oggi a parte Londra non esiste un taxi dedicato specifico perché già nel 74 quando fu pensato questo taxi a New York vinse il premio al MoMA come miglior taxi come idea pensavano ok dopo che il taxista ha finito cosa ne fa di questo oggetto oggi un SUV o un MPV è normale ma siamo al 77 da qui a questa vettura che era nata sul telaio di quest'altra ha veramente rivoluzionato il mondo da qui siamo passati alla 1 che era più alta delle altre quindi tutta questa esperienza la 1 poi l'idea l'idea per me è la 500 degli anni 90 piccola, alta, comoda chi ce l'ha la dovrebbe ricomprare non la fanno più purtroppo e oggi siamo ai SUV più sofisticati qui una battutaccia ci è arrivata persino la Alfa Romeo a capire che bisogna viaggiare seduti comodi in alto e la Cina quando nel la Cina era quando ho cominciato fino all'anno 90 ancora qua e quindi abbiamo detto ma quella di prima scusate è una vera macchina in produzione ancora in produzione adesso dalla Volkswagen costerà tipo 3000 euro e quindi per 3000 euro la compro anch'io probabilmente perché la fanno da 30-40 anni ormai è a posto però voglio dire la Cina ha perso l'occasione perché quando abbiamo avuto la commessa nella fine degli anni 90 di fare la nuova vettura cinese pensavamo ci ascoltasse il produttore e invece ha voluto questa ha voluto per carità una bellissima Berlina e la domanda dopo tutto quello che vi ho fatto vedere ma il mondo si sta progredendo in questo senso automobilistico ma perché volete eh ma voi l'avete avuta la vogliamo anche noi cioè purtroppo l'edonismo è una risposta come dire di gusto di praticità perché non hanno bagagli perché sono piccoli perché fortunatamente i cinesi fino agli anni 80 hanno cominciato come facciamo tutti a imitare a imitare quindi imito le vetture di successo edonistiche le BMW le Mercedes eccetera che non avevano ancora su loro quindi però il riferimento della vettura loro questa si chiama Zongua è la prima vettura originale cinese cioè prima di allora si chiamavano i CKD cioè gli europei o i cinesi compravano le vecchie macchine le assemblavano e quindi erano quelle che vi ho fatto vedere prima quindi la prima vettura a cui siamo stati convolti purtroppo è stata una berlina purtroppo per me è venuta benissimo questa c'ha 14 anni ed è ancora buona poi la vettura a simbolo dei cinesi si chiama Red Flag non bandiera rossa è la vettura per il mistero di rappresentanza anche essa non siamo riusciti a convincerli a fare un passo in avanti poi siamo riusciti a convincere che forse un due volumi era e questo è per un'altra società che si chiama Fab era adatta quindi tornare a dimensioni dove quattro posti e un po' di bagagliaio era sufficiente ma tac mi hanno messo il terzo volume immediatamente mi è insaputa poi non sapete io propongo questa e poi tac il micromafro al mercato mi sa che devi rassegnare il marketing e va bene poi ve ne faccio vedere tutti i tre volumi tre volumi vabbè un'altra piccolina fortunatamente la GIL la società privata che è un po' più smart ed ha cominciato con questa vettura con noi però voglio dire in questo che descrivi un po' come un disastro c'è una componente di cui siamo felici cioè vi hanno fatto fare un sacco di lavori devo dire visto la slide iniziale io non credo che ci siano altri designer al mondo che hanno così fatto tante vetture in un mercato come quello cinese però sempre utilizzando vecchi telai arrivo a questa per questo motivo sempre utilizzando dei vecchi telai insomma le macchine dei rottami che non potete immaginare a loro basta che gli cambiamo la pelle sotto ci sono delle cose veramente immorali cioè abbiamo vetture agli anni 70 vestite che girano oggi senza norme di sicurezza senza norme di emissioni costano 3.000 dollari esatto quindi il governo allora fino ad oggi fino ad oggi adesso c'è uno switch molto importante non aveva dato limiti sia dimensionali e questo quasi nessuno nel mondo ma soprattutto di emissioni cioè là arrivavano i motori che noi buttavamo e là funzionano e quindi la situazione che ti hai visto allora l'unico progetto dove abbiamo potuto purtroppo sempre per un tre volumi cominciare da zero poter progettare la vettura con delle proporzioni un pianale nuovo è stata questa chorus dove abbiamo addirittura inventato il marchio eccetera eccetera però cosa succede adesso c'è uno switch mi hanno commissionato Aurora una vettura che ha una tecnologia nuova essenzialmente elettrica ma la propulsione che è elettrica non basta deve essere generata da un qualche cosa e col mio amico boglione che pensiamo che la propulsione su un veicolo non solo possa diventare diversa quella di oggi il motore a scoppio ha quattro meccanismi che sono i pistoni che fanno un casino della madonna perché tra i cent'anni che ci andiamo ma esiste la turbina ho avuto la fortuna quando glielo ho detto non ci poteva credere di avere questa possibilità di realizzare come esperimento una vettura che è essenzialmente elettrica ma che non avrà limiti se vogliamo di distanza in quanto un piccolo generatore a turbina quindi silenzioso ecologico può bruciare anche le carote credo qualunque cosa le butti dentro lo brucia ti dà la possibilità poi di andare dove vuoi è una società nuova che si chiama Tech Rule ovviamente ci ha chiesto per lanciare il loro concetto una vettura edonistica quindi è avveneristica sempre la Ferrari sempre la vettura altra prestazione quando tu obiettivamente hai fatto capire le tue prestazioni su un oggetto del genere poi scali e vai a finire su una vettura di tutti i giorni questo è il loro programma questa la Ginevra sul mercato quando questa? questa ne faranno 25 esemplari solo come dimostratori della tecnologia e poi c'è un programma che va dalla vettura berlina importante fino alla vettura diciamo più economica però qui c'è uno switch importante perché questi signori hanno si sono sforzati di cercare questo molto semplice il governo ha detto ragazzi alla casa automobilistica adesso basta voi non fate più vetture tradizionali o elettrico a limite ibride contributi permessi eccetera nella città di Shanghai l'anno scorso 2015 hanno venduto 20.000 vetture elettrici quest'anno forse arrivano al mezzo milione al mezzo milione perché? perché o tu compri una vettura elettrica o tu non avrai la targa la targa costa 7-8 mila euro a vettura e quindi voglio dire è una programmazione meravigliosa io vi dico qua in questa sala tra dieci anni secondo me tre avremo la vettura europea avremo tutte le vetture cinese perché loro grazie al governo i contributi stanno sviluppando le tecnologie noi in Europa dormiamo a sogni sogni profondi perché le aziende sono fatte da manager i quali non vedono e non vogliono vedere al di là dei propri due tre anni quattro perché hanno i loro diciamo orizzonti temporali i risultati invece in Cina siccome tutte le aziende sono a partecipazione statale qui hai privati quei pochi privati che possono fondare aziende autobinistiche hai detto tu lo fai solo se fai vettura in certo modo e soprattutto la tecnologia elettrica la devi sviluppare questa è un po' autarchia ci viene in mente qualche cosa del passato ma è un'autarchia in una nazione che è grossa come noi sappiamo e quindi tutta la tecnologia dovete trovarla sul suolo cinese vogliono rendersi indipendenti dall'energia loro non hanno petrolio per cui per rendersi indipendenti almeno dal punto di vista automobilistico hanno spinto e noi per ora facciamo parte di questo primo step grazie Fabrizio adesso comincerei a chiudere questa prima tornata passando a un settore che poi come dire legge in questa serata che è l'arte Cristiano De Lorenzo è il direttore di Cristis in Italia viene però da un'esperienza importante sul mercato asiatico a Hong Kong e vorrei che tu partissi da qui da raccontarci quel mondo visto dalla tua prospettiva buonasera sì sono stato a Hong Kong quasi tre anni sono rientrato in luglio qui in Italia la differenza rispetto a tutti i vostri business è che noi non produciamo niente quindi certamente non accumuliamo stock allo stesso tempo è difficile accontentare la domanda perché l'offerta non sempre corrisponde ecco per noi Hong Kong è sicuramente la piazza più importante nel senso che come tutti o molti di voi sanno per le varie ragioni amministrative politiche commerciali è la piazza che ci consente maggiore libertà se guardiamo diciamo l'Asia i criteri per un mercato sano dell'arte sono sicuramente la presenza di musei che significa che c'è comunque un'abitudine all'arte al bello il desiderio di godere della bellezza le fiere d'arte che aiutano a diffondere chiaramente l'arte contemporanea o anche antica a seconda del tipo di fiera il trade quindi tutti i dealers che commerciano questa arte al di fuori del momento speciale della fiera che è un momento una kermess le case d'aste internazionali che con i loro circuiti i loro specialisti e le loro categorie le categorie che presentano i propri compratori giocano un ruolo importante soprattutto per l'arte storicizzata e una legislazione chiara ecco quindi questi sono poi i criteri ma diamo un'occhiata alle case d'asta nel corso degli ultimi anni ora questo è un report del 2014 perché purtroppo quello del 2015 non è ancora stato pubblicato e quello del 2016 non è nostro è uno studio piuttosto complesso se date un'occhiata questa top 20 nel 2014 vedrete che al di fuori di Christus Sotheby's che sicuramente avrete sentito o spero abbiate sentito nominare ci sono parecchie case d'asta cinesi che sono quelle segnate appunto come vedete con la bandiera rossa di cui alcune penso che nessuno di voi abbia mai sentito nominare come Xilin Shinshei che arriva niente male in undicesima posizione allora questo chiaramente significa che in Cina continentale ci sono delle case d'asta che ormai hanno un peso sostanziale sul nostro mercato e che una maggior parte di noi in occidente non conosce perdonami se tu fai una somma per paese la Cina batte tutti certamente certamente le inglesi sono due in classifica l'italiano nessuno le cinesi sette è così è abbastanza impressionante come tutti abbiamo penso osservato è indubbio che il popolo cinese ha una capacità di concentrazione di impegno e di realizzazione proprio su ogni fronte che è senza pari sono stati forse questi decenni di educazione al sacrificio assoluto io ricordo che a un certo punto a Hong Kong ero responsabile del chairman's office e il nostro chairman stava cercando a un certo punto una nuova segretaria ne aveva già due o tre ma ne voleva un'altra che parlasse bene il cinese che scrivesse bene il francese perché lui è francese e facemmo un'intervista a una signora molto carina parlava benissimo il francese era cinese ma parlava anche il cantonese e parlava l'inglese in maniera impeccabile per cui fantastica e questa cercava un ruolo uno stipendio assolutamente modesto normale ma a un certo punto lei non si è resa conto nel corso della conversazione che lui cercava un assistente per tutta la settimana mentre lei era solo disponibile la domenica cioè lei aveva già un lavoro dal lunedì al sabato cercava un lavoro per la domenica e questa cosa ecco ci fa pensare perché da noi parte che il weekend è sacro e se si fa un'ora in più è straordinario ma insomma tutto questo chiaramente non esiste e non è che intendo contestarlo però ecco è sorprendente vedere questa loro assoluta dedizione e poi l'intelligenza la rapidità con cui reagiscono operare in Cina non è semplicissimo infatti noi siamo stati i primi e siamo tuttora gli unici l'unica casa d'asta internazionale che può operare indipendentemente in Cina senza bisogno di una partnership locale avevamo iniziato verso la metà degli anni 2000 in partnership con una casa d'aste locale che si chiama Forever Auctions e poi finalmente nel 2013 abbiamo ottenuto una licenza per fare aste a Shanghai la nostra prima è stata a Shanghai proprio nel settembre del 2013 quando io mi sono trasferito a Hong Kong però ci sono poi le case d'asta cinese che arrivano a Hong Kong anche all'estero con uffici con aste importanti loro soprattutto si concentrano sull'arte asiatica che significa arte antica arte moderna arte contemporanea si va dalle porcellane appunto alle fotografie del nostro amico che è esposto nel corridoio e nelle altre sale e stanno facendo molto bene non sempre sono attendibili da un punto di vista dell'autenticità dei certificati che rilasciano ci possono essere delle cose diciamo discutibili ma sempre di più fanno attenzione a questi dettagli non insignificanti perché chiaramente gli crea molti problemi poi sono arrivate le grandi fiere internazionali che sono come Art Basel diventate un brand e quindi sono andate da Basilea a Miami come tutti sappiamo e a Hong Kong ormai da qualche anno nel corso degli ultimi anni hanno fatto molto bene con tutte le grandi gallerie che ci arrivano portando i loro artisti stranieri ma anche gli artisti asiatici e cinesi che seguono la maggior parte dei compratori di queste fieri è indubbiamente cinese della Cina continentale ma ci sono anche delle altre fieri più piccole come l'Affordable Art Chair la cui qualità è ancora forse non straordinaria Art Central che sta crescendo molto ed è molto raffinata Art Stage Singapore che è più piccola ma è raffinata eccetera eccetera quindi una di Shanghai la Art Zero 21 che è qui sotto a destra sta facendo un ottimo lavoro e portano degli artisti veramente interessanti è vero che ancora non è emersa non si è affermata come le altre però è indicativa che un fatto che il mercato si sia abbassata verso il basso cioè ci sia un accesso maggiore certo voglio dire ci sono sempre state gallerie a tanti livelli ci sono le gallerie che lavorano soltanto con le opere al di sopra del milione di dollari e quelle che lavorano con delle opere che uno si può portare via per mille euro e allora lì diventa un altro tipo di discorso è come comprare una sedia in plastica di ottimo design o una console di marmo tagliata da un unico pezzo un pezzo unico ma nel caso specifico penso che il valore sia dato dal fatto che è la prova che il mercato si sia allargato anche verso il basso cioè di oggi c'è desiderio giustissimo esatto mentre prima non oddio c'era ecco la cosa importante secondo me da dire è che se all'inizio all'inizio vuol dire 10-15 anni fa i collezionisti cinesi desideravano acquistare quasi esclusivamente arte tradizionale cinese quindi solo la loro arte solamente porcellane mobili d'epoca e pittura cinese che è su carto su seta su scroll rotolo come supporto adesso invece stanno sempre di più acquistando l'arte internazionale e questo fa sì che appunto tutte queste gallerie stiano proliferando a Hong Kong e in certi casi anche in Cina continentale chiaramente Gagosian ma anche Perroton e recentemente ha aperto De Carlo proprio a Hong Kong nel palazzo delle gallerie storiche e inoltre sta crescendo anche l'interesse per l'arte cinese contemporanea non solo tra i collezionisti cinesi ma anche tra i collezionisti internazionali perché giustamente sono artisti che adesso hanno un peso diverso ma i compratori cinesi hanno anche per quanto riguarda noi in modo particolare noi come Christis hanno cambiato il mercato dell'arte occidentale nel senso che sono diventati i principali compratori o alcuni dei principali compratori soprattutto sulle aste di arte impressionista e moderna vedete in questa slide ci sono tre dipinti di arte impressionista Van Gogh diciamo impressionista moderna e Picasso di due epoche diverse che sono state vendute nelle aste di New York ma acquistate da collezionisti cinesi ecco se il mercato gradualmente si è andato ampliando prima sono arrivati i russi poi sono arrivati in Medio Oriente poi dal momento in cui è arrivata la Cina questo è cambiato radicalmente e poi c'è il caso Modigliani che tutti avrete visto un artista italiano che è diventato famoso a Parigi il cui capolavoro è stato venduto da noi nel 2015 a New York per 170 milioni di dollari è il quadro più costoso mai venduto all'asta nella storia chiaramente il quadro di un pittore italiano più costoso mai venduto all'asta acquistato da questi due signori che hanno due musei privati a Shanghai il dipinto sarà esposto nel loro museo di Shanghai Long Museum e loro stanno facendo un lavoro piuttosto eccezionale nel senso che acquistano veramente ad altissimo livello musei privati ce ne sono tanti un altro per esempio è quello di Buditech che è un museo immenso straordinario diciamo per dimensioni e anche con una visione forte che è sempre a Shanghai Youth Museum e poi ci sono dei musei più piccoli che stanno crescendo ecco in Cina i musei crescono non dico come le boutique ma ecco in maniera esponenziale e questo fa piacere in un certo senso cioè il consumo di arte sta crescendo insieme al consumo del lusso se diamo un'occhiata alle oster quasi finito non vi preoccupate se diamo un'occhiata ai settori ecco come era nel 2001 il mercato e come è oggi vi rendete conto che c'è stato uno shift assoluto per cui se l'arte contemporanea che è il rosso e l'arte impressionista moderna che è l'arancio costituiscono praticamente la quasi interezza del mercato l'arte asiatica cresce gradualmente ma non troppo i due primi settori che ho menzionato stanno crescendo tantissimo grazie proprio ai compratori asiatici ecco io penso che alla fine di questo primo giro di pareri si capisca bene come sia veramente indovinato il titolo cioè le prospettive cambiano a secondo dei settori a secondo dei mercati era proprio quello che poi era un po' il senso anche del lavoro di Iuboline fa un lavoro di mimesi cioè parla dei nostri territori delle nostre virtù del design della moda del sistema Italia però si mimetizza Gaia mi dicevi tu ieri al telefono invece un'esperienza come dire invece un po' più tecnica perché abbiamo visto che con settori diversi cioè l'automobili che ha avuto un percorso diverso invece nella moda delle accelerate e dei momenti storici tu mi dicevi del vino c'è anche stato questo impatto culturale perché loro non sono abituati non c'è la tradizione come lo state affrontando qual è il modo per voi di introdurre come dire un prodotto così raffinato così ricco di valori in tutti i sensi su un mercato così lontano non hanno la cultura del vino però hanno una cultura molto simile che è quella del tè e quindi capiscono il concetto di terroir e dell'importanza dei siti di come il prodotto cambia a seconda dei cru sono abituati ai etannini per esempio e lui faceva una differenza tra vini italiani e di nuovo vini francesi di solito secondo me dal loro canto molti vini francesi hanno la morbidezza sono un po' come la cucina francese che si basa su salse burrose quindi anche i vini sono molto morbidi mentre i vini italiani sono molto diversi sono un po' come la cucina fatta con l'olio d'oliva e quindi sono dei vini che lasciano un palato molto più pulito però che hanno anche una struttura dei tannini più forti c'è meno morbidezza e qualsiasi mercato qualsiasi consumatore che è agli inizi di solito ama la morbidezza ama la dolcezza e quindi questo è vero anche per la Cina quindi i francesi sono un po' da perneofiti mentre gli italiani sono un po' più raffinati perconoscitori sì ma poi non voglio neanche dire non voglio sempre fare questa contrapposizione non sono i nostri nemici i produttori francesi anzi forse i nemici veri sono i produttori australiani i produttori californiani i produttori del nuovo mondo di vini che sono molto più strutturati più concentrati con più alcol e non tendenzialmente più fini e delicati come i vini francesi o i vini italiani però secondo me c'è mi sembra di notare che il gusto cinese se esiste un gusto cinese va in direzione dell'eleganza e della raffinatezza come il Giappone come altre culture asiatiche per esempio nella cucina cinese ci sono otto tipi di cucine diverse hanno una marea di piatti diversi ci sono alcuni prodotti che sono considerati molto prestigiosi e molto cari che sono dei prodotti per cui noi con la nostra cultura occidentale non riusciremo ad apprezzare per esempio prendo di rondine oppure hanno abelon questo tipo di sembra una una conchiglia oppure il shark fin soup la pinna di squalo oppure hanno un'altra cosa che chiamano il cetriolo di mare che sono degli ingredienti carissimi nei menù sono sempre più cari e hanno tutti la stessa caratteristica la caratteristica di quasi non avere gusto di essere delicatissimi nel gusto quindi per la cultura del double cheeseburger più gusto c'è meglio quello non funziona però hanno un'altra un'altra cosa che loro apprezzano hanno una una consistenza particolare perché possono può essere una consistenza gelatinosa croccante stridente sotto i denti e io noto delle similitudini io spero di vedere delle somiglianze con tanti vini italiani o magari con il mio vino italiano preferito il barbaresco che è un vino che ha un gusto molto delicato però ha dei tannini forti e quindi io noto che magari i neofiti amano di più la morbidezza però nella loro cultura c'è questo apprezzare i vini con un gusto delicato e una certa finezza e non è solo il barbaresco ma ci sono tanti vini italiani la bellezza dell'Italia è che abbiamo una varietà incredibile di diverse tipologie di uva diverse regioni quindi il vino italiano che è proprio per eccellenza il vino che meglio si abbina al cibo per acidità per tannino che pulisce il palato si può abbinare a questa vastità di piatti della cucina cinese ed è lì che dovremmo dovremmo puntare senza cercare degli abbinamenti particolari ma facendo vedere quanto possono essere versatili i nostri i nostri vini quindi io ho notato perché tu prima hai citato un fatto da soppopera le soppopere nascono le inventate mi pare fosse il marchio fosse Johnson che no 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 proprio Rengembor che ha cominciato a mettere a piazzare i prodotti commerciali nelle soppopere sono chiamate così e tu mi dicevi che il vino sta facendo questo percorso la vostra strategia in questo senso qual è? cioè come approcciate il mercato voi direttamente? ma la mia strategia della mia azienda non è quella e non mi spavento di una crescita magari meno veloce di altri di altri vini però più più concreta per esempio negli ultimi 12 anni è cambiato tanto il mercato cinese ci siamo presi le nostre soddisfazioni all'inizio quando viaggiavo andavo soltanto a Shanghai e Pechino e solo lì trovavo la mia clientela erano di solito tanti expatriates non erano non erano cinesi mentre sempre di più adesso sono i cinesi che vengono a trovarci che incontro che sono interessati alle degustazioni che facciamo non faccio più solo Shanghai e Pechino ma ci sono tante altre città e mi fa piacere a volte sono andata a Changsha in un paese in una città Changsha esatto dove a questa cena è arrivata una ragazza aveva fatto sei ore di treno per venire alla mia cena e poi sei ore di treno per tornare a casa e ho notato che ci sono pochi posti belli che tante persone crescono circondate dalla nebbia da questi palazzi costruiti male e che hanno proprio desiderio di possedere qualche cosa di bello di vivere un'esperienza che ha un valore vero e il vino è pieno di valori al suo interno e quindi il mercato sta evolvendo non c'è soltanto chi vede il vino come un prodotto di elite o che beve il vino un po' per scimmottare gli usi nostri occidentali ma inizia a bere per tanti altri motivi perché vuole capirne il valore vero cos'è cambiato tanto è che nel 2013 con l'arrivo del presidente Xi Jinping sono iniziate delle misure di austerity ha chiesto di essere più sobri e questo ha frenato molto il mercato del vino perché fino a quel momento la gran parte di questi vini molto costosi che venivano comprati e consumati in Cina venivano comprati per dare come regalo a politici venivano organizzati dei banchetti magari venivano anche usati un po' per corrompere chi doveva essere essere corrotto e a riprova del fatto che non è un mercato del tutto libero appena il presidente ha detto basta da adesso non dovete più ricevere regali non si possono più fare banchetti non dovete partecipare a eventi mondani si è fermato il mercato il che è un peccato perché noi stavamo crescendo finalmente iniziava a crescere un interesse per i nostri vini si è bloccato tutto e si è bloccato tutto perché tanti importatori avevano dei portfogli molto sbilanciati un 90% di ciò che vendevano e che compravano erano solo vini di Bordeaux e sono falliti tanti altri importatori sono finiti dietro le sbarre perché non pagavano le tasse c'è stato molto più controllo anche sugli evasori fiscali e tanti consumatori si sono spaventati e questo dal 2013 ad oggi adesso sta di nuovo riprendendo però è emerso anche un mercato più vero che è il mercato di chi compra per bere non chi compra per regalare ad altri e quindi iniziano a esserci dei consumatori molto più attenti a quello che comprano che vogliono veramente imparare qual è il valore di quel prodotto molto più consapevole e questo va a nostro vantaggio sono molto ottimista penso che anche bisogna pensare che il governo cinese è un governo che è a favore del vino ci sono altri mercati che non lo sono non hanno avuto il proibizionismo come negli Stati Uniti non ci sono campagne contro l'alcol come in Europa dove purtroppo forse no ma poi vedono nella cultura cinese per la medicina cinese il vino è considerato anche per i suoi valori positivi antiossidanti mentre purtroppo in Europa viene associato il vino ai super alcolici ovvero il vino dove attraverso una fermentazione naturale si sviluppa alcol ad altri prodotti dove viene sviluppato con una distillazione in maniera quindi secondo me dovrebbero essere distinte le due cose e penso che bisogna non dobbiamo sottovalutare la comunità cinese che c'è in Italia che per esempio sta dando una mano ai vini italiani sono loro che portano spesso la cultura per il vino italiano in Cina Andrei avanti vorrei a questo punto coinvolgere Marco però da un punto di vista più strettamente economico perché poi parliamo di economia di mercato e la domanda più semplice è quella ma dal tuo punto di vista conviene ancora investire e lavorare in Cina cioè è un mercato che per le aziende tipiche italiane ha ancora questo valore che abbiamo visto negli ultimi anni ma complessivamente direi senz'altro di sì senza nessuna remora per quello che abbiamo detto non c'è nessun segnale che faccia pensare a una diciamo recessione cinese sono su un razzo poi qualcuno si lamenta non crescono più dell'8% crescono il 6,5% chi l'ha mai visto qua cioè sì sì e quindi è sicuramente una tigre difficile che è in corsa che sta accelerando e quindi con tutte le difficoltà di sarà in groppa una tigre o un bufalo insomma se uno ci riesce tanto vale trovarci ma quindi dei suggerimenti anche dal tuo punto di vista quali sono le strade che si aprono per un sistema come quell'italiano che poi è fatto di medie e piccole guarda io credo che le strade siano un po' quelle che partono dalla prima parte della domanda cioè va la pena sì va la pena poi le strade imprenditorialmente bisogna un po' navigare e saper navigare anche a vista cioè strategicamente va la pena poi cosa fare l'imprenditore lo deve capire come un buon navigante o un pilota di un aereo mentre vola o mentre naviga perché non è che puoi far la rotta precisa puoi andare a dormire prendi l'iceberg cadi il tornado e quello succederebbe anche in Cina sul mercato ma io credo che sostanzialmente il 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 vero problema cioè il problema la vera opportunità da tenere presente è che succederà in Cina quello che è successo almeno per quanto riguarda la mia esperienza ho 60 anni mi ricordo della vita da quando ne avevo 5 e 6 quando ne avevo 5 e 6 mi ricordo che c'erano il made in Germany perché la Germania era in ricostruzione erano molto già efficienti volevano guadagnare quote di mercato insomma incominciavano ad arrivare le cose i prodotti di consumo di largo consumo tedeschi e per entrare erano molto competitive allora si diceva roba tedesca era di qualità così appena hanno superato la prima onda la Germania è diventata di grandissima qualità il prodotto era premio se era made in Germany nel frattempo partivano i giapponesi ve li ricordate tutti ci ricordiamo tutti arriviamo con la macchina fotografica i giapponesi fotografavano tutto copiavano e il made in Japan era seconda scelta rispetto al made in Germany pensate alle macchine fotografiche e tutta la tecnologia quando diceva i giapponesi i giapponesi non è tedesco tempo dieci anni il giappone è diventato allora è arrivata la Corea del Sud made in Korea made in Korea non è made in Japan poi è arrivata la Cina anche il nome le cineserie made in China attenzione perché tempo cinque o dieci anni massimo made in China sarà come made in Germany made in Japan made in Korea adesso e questo non solo per i computer o per diciamo per il basso costo della manodopera ma lo sarà anche nell'arte lo sarà anche nella moda come lo è stato per il Giappone come lo è stato per la Germania quindi uno dice cosa devo fare in Cina beh guardiamo perché forse c'è da comprare degli stilisti in Cina in questo momento come c'era da comprare Kenzo quando nessuno se lo filava perché la Cina crescerà a 360 gradi e diventerà molto prima di quanto noi ci possiamo immaginare cioè io quando dico queste cose tutti ridono la Cina ma è made in China aspetta un attimo abbiamo tutti un iPhone che è made in China il leader mondiale di alta tecnologia di fotografia di droni non è più giapponese ma è cinese si chiama DJI dategli cinque anni e vedrete che il marchio Cina sarà un marchio di stragrande qualità e non solo sui prodotti manufatti ma anche sui prodotti a contenuto intellettuale quindi moda design arte attenzione attenzione andiamo a comprare marchi in Cina una riflessione di fondo Guido su quello che dice Marco perché a volte noi osserviamo gli eventi e pensiamo che siano passeggeri se guardiamo i numeri e torno a quello che dicevo all'inizio l'economia cinese genera nuova ricchezza per circa 700 miliardi all'anno perché se voi fate un rapido calcolo su 11.000 miliardi loro crescono del 6,6% e siamo circa 700 miliardi all'anno quando parliamo della prima economia mondiale che sono gli Stati Uniti e moltiplichiamo i 18.000 miliardi per l'1,5% scopriamo che gli Stati Uniti generano ricchezza per 250 miliardi c'è stato un periodo in cui si parlava di Cinindia e quindi si associavano un po' queste due economie l'economia cinese l'economia indiana vale circa 2.000 miliardi e quindi anche se oggi è l'economia che cresce di più al mondo cresce del 7,7% contro il 6,6 della Cina e voglio dire rappresenta una crescita di circa 180 miliardi quindi che cosa si sta generando si sta generando un fenomeno per il quale nella Cina e poi qui io farei anche una riflessione sul funzionamento magari di un eccesso di democrazia visto quello che succede là che riguarda un po' il mondo occidentale forse non è il regime migliore assolutamente quello cinese ma ha un po' di equilibrio rispetto a quello che succede in occidente ci vuole e il mondo cinese sta creando un fenomeno di questo tipo fino a poco tempo fa i cinesi crescevano il pil cinese per un 70% rappresentato da investimenti in infrastrutture l'economia americana per un 70% è rappresentato dai consumi il vero fenomeno in atto in Cina è il tentativo di switch e se come loro auspicano ci riusciranno cambierà anche in termini di esportazione di prodotti e quindi l'economia cinese diventerà maggiormente un'economia di consumi e in questo sta preparando una classe media che è un po' quello che sta venendo meno nel mondo occidentale quindi è in atto una vera e propria rivoluzione sociale e qui abbiamo degli imprenditori sia tra i relatori che in sala di straordinaria rappresentanza di quella che è la grande qualità italiana e quindi noi dobbiamo essere molto attenti a non ragionare solo con lo specchietto retrovisore ma guardare soprattutto avanti quindi guardare le prospettive e quindi ringraziamo anche Liu Bolin che ci ha consentito di vedere quella che è così l'immagine positiva che i cinesi hanno del mondo italiano e questo ci deve far pensare di essere costruttivi in chiave prospettica e di dedicare le energie giuste a questo mondo peraltro noi l'abbiamo interrotto per il ciclo ma per le domande in realtà Fabrizio ha chiuso la sua presentazione mostrandoci un oggetto che è proprio quello che stiamo dicendo cioè che lo switch il salto che sta facendo la Cina porta ad avere prodotti come quello che ci hai fatto vedere che anzi se Marco aveva concluso ti chiederei su quella stadi di dirci qualche cosa in più perché non è una cosa banale dire che sul mercato già dall'anno prossimo andranno macchine macchine con la tipologia concludi però scusami scusami no mi fa piacere quello che hai detto volevo proprio concludere in quell'ottica lì cioè la Cina oggi che è proiettata per diventare un marchio di qualità ma non bisogna dimenticare che quello che è la Cina oggi è una Cina di 400 450 milioni di persone che sono la Cina messa a consumo a produzione e consumo la Cina sono un miliardo e mezzo di persone quindi bisogna provare a immaginare cosa può diventare a livello di rivoluzione sociale a livello mondiale una Cina che su questi parametri oltretutto copiando il Giappone e la Germania come dicevo prima passa da 450 milioni di persone che sono già più degli americani a un miliardo e due un miliardo e tre cioè cosa può succedere a livello sociale mondiale come puoi oltretutto in una situazione politicamente completamente diversa cioè noi abbiamo firmato un contratto in Cina con Carlo e il notaio ha voluto cioè l'avvocato il notaio ha voluto che il traduttore mi traducesse che se io mentivo in quella dichiarazione davanti al notaio in Cina c'era pena di morte ma ammazzavano oltre che non esistere per legge la democrazia cioè differenze pazzesche ricchezza a quei livelli qualità a livello mondiale un miliardo e mezzo di persone cioè io dico se noi non rispondiamo è un bel da dire retrovisore guardiamo avanti gli imprenditori italiani ma cosa facciamo ma non possiamo fare proprio niente l'unica cosa che potremmo fare è cercare di mettere insieme ma mi rendo conto che di una difficoltà intellettualmente immensa una risposta diciamo opponibile da un punto di vista qualitativo mettiamo insieme la Russia l'Europa stiamo fortemente alleati con gli americani siamo 600 milioni di consumatori da Vladivostok al Portogallo siamo alleati con gli americani forse possiamo dire la nostra altrimenti non so veramente come si possa pensare al di là tatticamente di andare a fare dei buoni affari oggi in Cina questo sicuro comprare stilisti comprare un sacco di cose sempre nell'ambito di quelle che ti lasciano comprare perché poi lì appena hai morto non c'è la democrazia non è che vai lì e dici è bello quel palazzo me lo compro ma quando mai ma quando mai hai detto la verità no io ho detto Carlo dici di tu cosa gli devo dire gli ho detto la verità ma fa un certo effetto cioè ti crea un po' di il barazzo proprio strategico scusa Fabrizio il fondatore è quella società che ci ha contattato per la prima volta a fine anni 90 alla fine non è arrivato a compilimento del progetto è scappato in America si entra e taglia nella testa quindi pensiamo alle parole di Marchionne non lo dico più quindi lui non è arrivato a compilimento a compilimento del progetto è stato è stato indagato è stato processato è scappato in America non può rientrare quindi ovvio che abbiamo delle regole in questo senso così diverse che durano ma tornando al mio campo più specifico cioè ci sono gli edanter lì quelli veri proprio ci sono gli edanter altro che dire si davanti al notario dal punto di vista automobilistico che è poi una pedina nell'ambito economico non indifferente perché ovviamente produce ma consuma tanto sia nell'uso dell'auto che nella produzione dell'auto questa volontà cinese di rendersi indipendenti è mica da ridere e quando un governo del genere che ha tutte le leve ed è in tutte le case automobilistiche presente lo dice lo si farà sul fatto della tecnologia è curioso perché anche lì tanti anni fa una casa automobilistica cinese ci disse noi dobbiamo andare sull'elettrico perché come facciamo a immaginare un futuro dove stiamo parlando di Pechino di Shanghai di tanti altri centri ma la Cina è enorme portare il carburante dall'altra parte del deserto del Gobi è un casino quindi la trazione termica come vedete voi è un casino l'elettricità i fili arrivano ovunque ed sarà più facile quindi sono partiti dal fatto che è logico non è che ci vogliamo dal punto di vista delle emissioni io sono molto perplesso perché alla fine l'energia da qualche parte la devi fare e va bene stendiamo paleoliche tutto quello che vogliamo ma bruciare il carburante in un certo modo è ancora il sistema più efficiente non c'è niente da fare quindi bisogna trovare dei sistemi però tornando all'auto veramente però perdonami anche su questo cioè l'inquinamento l'hai fatto dire tu prima è un fattore io sono stato cioè un occidentale a quei livelli una settimana è molto semplice loro hanno in questo momento vetture come noi le stesse che avevamo noi 30 anni fa ma con un traffico che 4-5 volte e quindi qui ogni tanto faremo le domeniche ecologiche si abbassa un po' ma va bene l'asse si fermano il cielo è in tazzurro in un attimo è vero che attorno ai grandi centri ci sono anche molte industrie che anche loro non hanno le stesse normative di emissione che abbiamo noi però il governo si sta muovendo fortemente su questo perché crepano la differenza è che crepano poi abbiamo visto alcune foto satellitare dell'inquinamento la Cina rischia veramente di fare un danno al mondo non se lo può permettere a un certo punto qualcosa vorrà cambiare ma crepano prima l'oro di noi per cui nell'auto c'è questo must di alternativa e questo ha schatterato una cosa perché questa società con cui stiamo lavorando ci hanno detto tra dieci anni saremo noi a vendere a voi la tecnologia perché voi in Europa non state facendo nulla noi siamo obbligati prendiamo fortunatamente la esperienza e la capacità sviluppata nell'aerospaziale nel militare che è un fracco di brevetti che nessuno utilizza quindi noi siamo costretti però di questo passo Marco diceva giustamente che sarà figo probabilmente avere un prodotto cinese e qua in questa sala tra dieci anni saremo in tre a vetture europee ma le vetture cinese saranno migliori ma non più economiche saranno migliori saranno probabilmente più fighe saranno più ecologiche e andranno di sicuro a sorpassare se non si danno una svegliata i produttori europei occidentali perché a oggi nessuno gli dice di farlo ricordiamoci lo scandalo della Volkswagen siamo a questi livelli i manager purtroppo non vengono tagliate le teste ma sono tutti in vacanza da vinte con un fracco di soldi hanno fatto un danno pazzesco ma non succede niente quindi è un momento in cui la Cina io lo vedo nel mio campo ma poi andando in Cina quasi una volta al mese vedo cosa succede al di là del mio campo e sì c'è da puntarci parecchio in questo momento questa società con cui sto lavorando sta investendo molto da noi a Torino la vettura sarà fatta a Torino quindi in questo momento sono tecnologia cinese design e tecnologia meccanica italiana anzi torinese tutta eseguita a Torino ma con il cuore che è cinese e siamo veramente alla frutta se guardiamo da questo punto di vista vorrei passare di nuovo all'arte di cominciare da anzi chiudere questo secondo tornata entrando un po' più nel dettaglio cioè c'è un mercato in evoluzione che cambia hai parlato del sistema faristi in realtà invece mi vorrei focalizzare un pochino più sulla Cina come rispetto ai parametri che siamo abituati a vedere in occidente quel mercato soprattutto dei nuovi come ci si fa a comprendere bene le dinamiche e le tendenze ma allora innanzitutto è comunque un mercato ancora molto di elite comunque diciamo quello che Cristis vende è arte a un livello molto alto e non si fa diciamo per la maggior parte dei cinesi assolutamente inaccessibile tanto più che quelli che diventano poi dei veri propri collezionisti hanno una passione per l'arte diciamo anche il più cinico investitore non comprerebbe arte senza scegliere anche se non ti interessa ma la vedi solo da un punto di vista di investimento sceglierai questo anziché quello è inevitabile quindi c'è sempre comunque una passione stanno viaggiando sempre di più stanno vedendo più musei stanno vedendo più fiere il gusto sta cambiando continuano a comprare l'arte cinese tradizionale anche se gradualmente si spostano verso l'arte internazionale l'arte contemporanea chiaramente è l'unica che parla un linguaggio direi esteticamente comprensibile a livello globale per questo è contemporanea rappresenta un po' tutte le popolazioni del mondo e quindi è più semplice e poi ci sono chiaramente delle opere che invece vengono collezionate per un discorso più di status symbol questo è sempre stato da che mondo è mondo voglio dire dai faraoni poi l'arte ha un valore anche di simbolo di potere di raffinatezza e il desiderio di accumulare della ricchezza del benessere io non so se tu volevi in qualche modo poi tirare un po' le fila perché a me sembra che sono uscite due scenari uno un po' più più negativo preoccupante perché alla fine tutti in tutti gli interventi testimoniano la retratezza un po' del sistema occidentale segnatamente di quello italiano le regole la democrazia l'hai citato tu ma dall'altro lato poi dicono che in qualche modo ancora la qualità pagano forse l'unica strada che abbiamo è quella di puntare sulle nostre eccellenze sulla nostra su quello che nel nostro DNA che forse poi in qualche modo riusciranno anche loro a migliorare ma che comunque per noi rimane un'eccellenza dal tuo punto di vista che l'hai guardato da un quadro come dire macroeconomico e pensi che questa sia la vera sintesi vedi anche come dire una prospettiva diversa questo rapporto tra l'Italia l'Occidente e la Cina ma io devo dire che ho il privilegio da 35 anni ormai di essere vicino e di vivere imprenditori di successo e quando visito un'azienda ed è una cosa bellissima l'Italia è straordinaria sotto questo aspetto perché ha delle eccellenze incredibili la prima cosa che faccio è guardo le persone guardo gli imprenditori e guardo i manager e normalmente se sono manager capaci e imprenditori illuminati si capisce che sono in grado di superare anche i momenti difficili che in ogni settore in ogni mercato ci possono essere ora noi arriviamo da anni nei quali l'Europa voglio dire regredisce nel suo complesso perché mancano dei leader mancano delle persone capaci mancano delle persone lungimiranti ognuno guarda al proprio orticello non comprendendo quello che veniva detto prima che se non si fa squadra a livello europeo in termini di sicurezza in termini di sviluppo in termini di proprio di comunità si rischia veramente di essere poi bypassati non da una meteora ma contrastati da un paese che nel 600 deteneva il 30% del PIL mondiale quindi nel DNA ha l'essere una potenza non ha l'essere una realtà accessoria quindi io non voglio chiudere con un'affermazione positiva fino a se stessa no perché dobbiamo anche uscire dall'ipocrisia di dire che va sempre tutto bene no allora siamo in un in un paese in un continente che ha indiscutibilmente delle eccellenze che l'unica cosa che possono fare è essere coerenti quindi cercare tutti i giorni di dare il massimo io qui in sala ho degli amici imprenditori professionisti che stimo tantissimo e che so che tutti i giorni dopo magari aver provato un po' di fastidio alla burocrazia che devono superare alle ancore che vengono poste a chi vuole fare qualcosa in chiave costruttiva poi ci mettono tanta energia però dico questo che unita a tutta questa energia tutta questa qualità noi dobbiamo sommare una maggiore lungimiranza dei leader e quello che succede non sempre ci fa pensare di essere ottimisti quindi io più che con una così un'affermazione positiva voglio sottolineare una speranza che è quella che la coerenza degli imprenditori illuminati e dei professionisti illuminati che abbiamo sia un esempio che qualche leader possa cogliere e che la si smetta veramente da un punto di vista politico ad avere delle ipocrisie delle affermazioni di breve e poi portare avanti dei meri interessi personali siamo veramente tutti stufi di questo io ringrazio di cuore gli amici che sono qui e anche quelli che sono in sala perché credo che si sia vissuto un momento meno banale di quello che normalmente viene portato avanti che l'arte abbia un ruolo nella storia sempre rappresentato un ruolo molto importante perché come abbiamo detto prima segue il denaro e il fatto che la Cina incominci ad avere un ruolo così importante a livello internazionale è un segnale per tutti quindi io vi ringrazio della presenza sono molto contento di quello che si è detto ma soprattutto mi auguro che che ci sia un aiuto al mondo degli imprenditori da parte di una politica internazionale una politica italiana che in questi anni voglio dire deve guardare i numeri cioè quando in un'azienda si perde per tanti anni l'imprenditore può darsi molti alibi ma farebbe bene probabilmente a cambiare mestiere qui abbiamo dei politici che hanno distrutto ricchezza e che invece di così di mettersi da parte hanno ancora il coraggio di raccontare tante bugie noi abbiamo bisogno di persone serie e speriamo che questo paese oltre che avere degli imprenditori seri dei professionisti seri incominci a avere anche dei politici seri buona serata a tutti grazie grazie a tutti